Nooo, oddio Emo? Fat, invece noi andiamo sulla Kaizo Una Kaizo che vuole vedere la vittoria di Vapor Me l'ha detto a me in privato E quindi perché non farlo subito? Accontentiamola, vediamo questa vittoria di Vapor Oggi stesso Quando troverò delle cose decenti Vi chiamo, regà No, no, no E' che non stiamo trovando Pokémon E' da un centinaio di tre che non stiamo trovando niente Abbiamo trovato un Latias Sarà che c'è un approccio sbagliato? Cioè io cerco il Godwin proprio Sarà che dovremmo trastare anche questi Tipo Mac? Secondo me no Perché a meno che va proprio Ma di culo esagerato Non vincerà mai Ma Master Ball utilissima Va nel Luxe Mac, un'altra volta Niente, l'ha detto che mi dà solo monnezza All'altro con Knock Off e Rage Due mosse da 20 Rage sono io Rage sono io in questo momento Che non trovo la run Lui si busta Busta le difese Vabbè, quando hai fatto dimmi Ah, si plot pure L'attacco speciale Poi fa Bodyslam 19 di speed Possiamo scoutare bene con lui Vai Due Tre Un Bronzong Dai, prendiamo il Bronzong Oddio Però no, aspetta Prima scauto gli altri percorsi Con 37 di speed Blaziken Ok Già mi piace di più Vabbè, prendiamolo su 16 di speed 25 di attacco D'angrofeed Blastburn C'è una stab carina Ma A sto punto Trastiamo pure Bronzong Vai Lo cambiamo di nuovo Oh T5 Eruption Ice Beam Oh Non è male Vabbè, ma già Eroble Blitzkick Manco le guardo Eruption Ice Beam Però tanta roba No dai, lo trastiamo direttamente Tra l'altro Natura perfetta Non è male Non è male per niente Ice Beammalo Allora Calmi tutti No c'è un attacco speciale Che fa paura Assurdo 50 è tantissimo In quanto a sto livello È follia Ed è un Bronzong Un'ottima tipologia Oh È carino dai Certo con 15 pp Non so se arriveremo Alla fine di questo percorso Però Oh Dragon Pulse Purtroppo È una merda Per la coverage Però va bene È una mossa Sì sì So pp infatti È un bel godmon Oddio Le difese sono un po' basse Però Mosse Ottime Abbiamo già vinto Abbiamo già vinto Con sto Bronzong X special attack Ottimo Vai Petra Non do oggetti Gli oggetti nerfano Eruption Via Leaky Eruption Eruption No Detect Sei figlio di Troia Finito Eruption Q2 Che male Va bene Ice Beam Madonna È una Difesa speciale Più questo Ecco là Oh coglione Chiuso la pozza In split Va bene Oddio Stavo per trollarla Stavo per trollarla Volendo fare Eruption Su chi Non aveva bisogno Eruption 39 Eh Eh In che senso Tailglow E la impariamo Ci ha dato Tailglow E l'abbiamo imparata Cioè Tailglow Tailglow Più due Attacco speciale Non so se siamo Abbastanza veloci Però Ma secondo me Potremmo Potremmo essere Abbastanza veloci Non abbiamo Ste grandi Difese Quindi settare Più di un Tailglow È tosta Il problema Impararla così Presto È che non abbiamo Tanti vp Poi Soprattutto Ci abbiamo Perché ci abbiamo Eruption La mossa che Con 5 vp E tra l'altro Funziona in base alla vita Forse era meglio Aspettare a darla No perché tanto C'avevi i gyroball Che cazzo ci facevi Però se magari Impari un'altra mossa È più utile Poi tailglow La dai per Più in là Però poi magari Ti arriva la sfida Che dice Ah cazzo Qua ci avessi avuto Tailglow Eh Eh Sì Zinc Energy root Però Tre cure Allora dobbiamo pure Vedere le cure che troviamo Eh Potion X accuracy Max revive Genius Amenta l'attacco speciale E guarda qua Brubum Salamez No problema Follia Veramente Follia Mannaggia Che culo Poi su un pokemon Buono Di tipologia Come bronzo Che è un metagross Ma un po' più piccolino Vp su un problema Dici Non so se ci stanno Grandi dungeon Più in là Però Eh Però è 60 Raga È vero È vero Elettro infallibile Però è 60 Sai cosa Ho sbagliato a mettere Tailglow Avrei dovuto aspettare Perché in early game È meglio avere La coverage Non lo so Io probabilmente Non la metterei Poi piso Importanti Vabbè dai La mettiamo Almeno colpiamo Gli acqua Super efficacemente Che gusto E se no In tutte le mie run Gli acqua Non l'ho mai colpita Super efficacemente Porco 2 È incredibile Allora Palestrina Ecco Tipo in sti casi C'ho solo una 60 Capito Capito Ho missa Heatwave O abbiamo perso Shockwave Non può paralizzare Tailglow inutile Un'altra La reggiamo Siamo in range di crit Ma Pochi cazzi Io ho cambiato mossa Io non posso Curare davanti a lui Devo shottarlo Se c'è una priority Puro qui Ergirut Vabbè 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 Non è successo niente Non abbiamo ancora perso Quasi ma Diamo gli un bel rejoice Magmortar Magmortar Coitwave Raga Nel senso c'ha Ho sbagliato Porco Vabbè Ecco Sprecato un altro pp Porco 2 Se perdo perché mi mancano pp di eruption Banno Io Interglow Interglow Lo setto No Oddio Emo E lui Continua a farmi quella Devo sempre switchare Quindi ho perso Non posso farmi uccidere Io così ho perso automatico però Perché Continuo Se devo sempre switchare Eh Continuo a ributtarlo dentro su Dragon Tail E lui me lo ricambia C'ha 7 pp Ragazzi Dragon Tail Usa le ball Ma posso usare le ball Per Ma mi sa che non le posso usare Non puoi sempre switchare Ma sarà che hai fatto così Niente Non posso Tappare davanti a lui E in realtà potevo perché No Tanno Vabbè Porco 2 Boh Io ho fatto così Ho tirato la ball Poi Switcha Volt Absorb Charizard Volt Absorb Non lo so se Se si può fare Però Io non potevo fare altrimenti Cioè Devo Continuare a switchare Non sono sicuro Non sia legit Continuare a switchare È stupido Dai Non mica siamo dei bot Porco 2 Tirare la ball Sprecare un turno Secondo me Ci sta Infatti Infatti nel lotto in doppio Lo puoi fare Però lì sei obbligato A fare lotto in doppio Se non stai attaccando Perché Non ho switchato io Intenzionalmente Ovviamente Quello no Non è che switcho E metto a tirare le ball Per togliermi Un debuff Ok Mi ha fatto lui Dragon Tail Io ci ho provato qualche volta Non cambiava mossa Ho tirato la ball E non è che me lo posso far Uccidere così Se non è legit Non gioco più la kaizu Non è cheGAN Non è che Che Grazie a tutti